Beh, in questo momento parliamo di cultura, ma abbiamo questa situazione che io considero offensiva per la cultura, per Napoli e per la Campania. Abbiamo una situazione di precarietà nei due principali musei che abbiamo a Napoli, Capodimonte e il Man. Non è possibile. È un'offesa alla cultura e a Napoli. Abbiamo sostituti di valore, Osanna e Rocca, ma non è possibile che due istituzioni culturali di questo valore debbano attendere le comodità di un candidato sindaco di Firenze che comunica questa mattina che se va male a Firenze torna a Napoli. L'amica me la porta a Gilevole che prende l'autobus, questo va e viene. Ma com'è possibile questo? E com'è possibile parlare di cultura in queste condizioni? E com'è possibile farlo dopo che già abbiamo vissuto un episodio sconcertante al Teatro San Carlo quando per alcune settimane abbiamo avuto due soprintendenti in contemporanea? Dunque cultura, ma fino in fondo è il rispetto delle istituzioni, se no non ci capiamo.